ANSA, Roma, 6-8, o Rosatellum o il Consultellum, terpium non datur. Così, a quanto si apprende, Matteo Renzi in direzione, spiega che sulla legge elettorale il PD sta facendo un ultimo tentativo e pur dicendo di non andare pazzo per il tema, chiede uno sforzo ulteriore per la legge elettorale che serve all'Italia. Il Rosatellum per Renzi, ha elementi di forza sul Consultellum con il PD Bari centro di una coalizione più ampia.